Sul campo del Monte Giordano passano i Ranger ma i padroni di casa sono riusciti a disputare una buona gara, mettere in apprezzione anche la formazione di Mr. Sgrangi. Siamo con il portiere Corbino, autore di ottime parate, bellissima quella su Florio, sullo 0-0, poi a prezzo e sopravvento anche una squadra che ha un tasso tecnico di notevole spessore e anche una rosa competitiva, più giocatori entravano e più aumentava anche il livello della squadra. Però voi non vi siete disuniti e sul 2-1 avete messo in apprezzione la prima della classe, credo che sia tutto sommato una bella soddisfazione. Una soddisfazione è trovare sicuramente il gol della bandiera almeno in casa davanti ai nostri tifosi, siamo dispiaciuti perché non riusciamo a incidere per tutti i 90 minuti, lo facciamo solo per 10, allora se una partita dura 90 non riesce a tirare un risultato. Loro sono una grande squadra, lo dimostrano, l'hanno dimostrato all'andata, poi sono persone pure molto corrette, cosa vuoi pretendere contro la prima della classe? No, quindi va bene così da un certo punto di vista. Siamo dispiaciuti perché 4 gol, 4 brutte disattenzioni e siamo bravi in questo, dobbiamo migliorare a non perderci d'animo fra compagni. Sicuramente qualche soddisfazione da qui alla fine cercheremo di togliercela perché almeno ce la dobbiamo giocare tutte ogni volta, se no non ha senso. Dobbiamo dire che comunque le motivazioni per la prima della classe c'erano e poi anche una rosa di spessore, poi i ranger questa volta hanno avuto anche un ottimo approccio alla gara, però voi tutto sommato un po' come è successo al Tonino Sosto all'andata, per alcuni tratti, forse hai proprio centrato tu il problema, per alcuni tratti riuscite ad essere anche ordinati tatticamente, i reparti ben collegati, poi ci sono dei momenti di ammenesia che pagate a caro prezzo. Allora, noi partiamo svantaggiati perché abbiamo iniziato tardi, non abbiamo avuto modo di provare questa squadra, quando poi inizi il campionato e non riesci a incidere sulle partite, automaticamente poi un po' ti sfilacci, durante la partita c'è qualche compagno che si perde d'animo, non abbiamo la maturità di tirare su quel compagno. La nostra più grande soddisfazione è arrivare comunque tutte le settimane a fare sacrificio, allenarci, arrivare con una media di 13-14 persone, in un posto dove comunque è l'unica cosa che abbiamo, dove poter passare del tempo. Quindi va bene così, noi accettiamo le sconvitte, ma se un avversario è più forte lo accettiamo, però ci rifaremo anche in questo. In conclusione, adesso visto che comunque siamo già nel giorno di ritorno, tutte le squadre le avete affrontate, un po' la tua personale graduatoria e soprattutto anche magari chi è l'attaccante che veramente ti ha messo più in difficoltà? Allora, l'Altomonte è una bella compagina, davvero una bella squadra. L'Albidona si è rinforzata moltissimo a gennaio, noi lo vedremo adesso fra due domeniche. Poi per il resto sono tutti, diciamo, chi ha più grinta, più voglia. Poi la classifica comunque dal primo al quinto è molto corta, quindi sono penso cinque squadri che meritano quelle posizioni. L'attaccante più forte non lo so, ce ne sono diversi, adesso i cognomi non ce li ricordiamo purtroppo. Magari Love oggi è stato protagonista con tre gol, però sicuramente... Lui ci ha fatto gol anche all'andata, quindi va bene, infatti glielo ho detto a fine primo tempo, mai segnato di nuovo, però va bene così, sono contento per lui. Volevo poi chiudere veramente dicendo il contorno che c'è stato qui, ottima ospitalità, grande fair play, qualche protesta educata e civile nei confronti del giovane arbitro, quasi anche ad aiutarlo, comunque a continuare. Credo che questo sia un segnale molto importante da sottolineare. Certo, noi puntiamo sicuramente al premio disciplina, siamo i primi, quindi sarebbe da stupidi almeno non cercare di prenderci la soddisfazione di avere il premio disciplina. Montegiordano è una casa aperta a tutti, quindi va bene così. In bocca al lupo per il prossimo. Grazie, grazie, in bocca al lupo a voi.